Benvenuto, prime dichiarazioni da portiere della Virtus, Francavilla in esclusiva ad Antenna Sud. Ti chiedo innanzitutto le sensazioni e le emozioni dell'essere arrivato a Francavilla Fontana. Emozioni sicuramente importanti, di essere arrivato in una grande società e quindi non posso che essere emozionato e carico per la stagione che sta per arrivare. Tra l'altro avevi tante richieste, poi come mai hai scelto proprio Francavilla Fontana, che può essere anche un salto di qualità per te, con tutto il rispetto per Ancona e Casertana. Però è un passo in avanti anche per la tua carriera in un club ambizioso. Certo, assolutamente. Questo è un club molto ambizioso, che fa le cose in modo giusto, in modo corretto, in modo professionale. In questa Lega ovviamente qualche volta si trova qualcuno che non lo fa, quindi assolutamente già questo è un passo molto importante. La società è ambiziosa e ovviamente con tutto il rispetto per Casertana e Ancona, che sono altrettanto due società importanti. Però pensiamo al presente e quest'anno cerchiamo di dare tutto per questi colori. I tifosi entusiasti del tuo arrivo, anche perché ricordano di un Virtus Francavilla Casertano 1-3, una bella giornata per te. E se hai anche tu un ricordo della Virtus Francavilla? Assolutamente. Già quando l'ho affrontata per due volte nella stagione, non quella appena passata, quella precedente, ho un ricordo assolutamente erosio di questa società, della squadra che aveva già allestito all'epoca, della piazza, dello stadio che è molto bello. Fortunatamente andò bene per me e cercherò di ripropormi e anzi di fare ancora meglio per questi colori. Grazie.